Musica Cercare di scoprire i talenti nascosti è sempre una cosa che è interessante fare, poi l'ho sempre fatto in tutta la mia vita, quindi non è una novità, però è giusto continuare a farlo con le nuove generazioni. Vincenzo Avanti, avanti, avanti. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Come ti chiami? Vincenzo. Senti, quanti anni hai? 39. Ah, 39 anni. E come mai 39 anni se ti sei presentato a X-Factor? Perché praticamente mi ci hanno iscritto, dico la verità. Sì, mi hanno detto, guarda, c'è questa possibilità, io ho già un gruppo rock, non sono mai riuscito a sfondare, però insomma ci continuo a provare lo stesso. Quindi, voglio dire, tu canti già... Sì. Ma di lavoro, di mestiere cosa fai? Di mestiere faccio disoccupato da un paio di giorni. Da un paio di giorni? Ah, mi dispiace per il lavoro. E che a me? No, immagino, insomma, purtroppo non sei l'unico. Senti, cos'hai preparato? In italiano, una di Negramaro, che è Mentre tutto scorre, una di Mina, Paroli Parole. E quella in inglese qual è? Quindi in inglese qual è la lotta love dei Red Zeppelin. Pezzo in inglese. You need fooling Baby, I'm not cooling I'm gonna save you We're back to schooling Way down inside Honey, you need What I give you my love What I give you my love Oh, what I give you my love What I give you my love Beh, insomma, non si può dire che non canti tu. Senti, e quindi Roberto che dici tu? Sono convinto all'80%, credo che quella parte appunto un po' più, cantata un po' più piano, un po' più in basso, dove giocano altri elementi, non soltanto l'energia, lì sento che stai giocando un po' fuori casa. Però in tutto il resto mi piace davvero tanto, è una bella voce. Tu Luca? Io, a me piace molto. Grazie. Anche a me piace molto. Anche a me piace molto con quella nota di Roberto. Tanto per farla breve, sì. Grazie. Ciao, vai, prego. Grazie. Incredissimo, quindi, bella vince. Mentre quello di fortuna. Vincere male? No, 29 anni. Eh, ma che se ne frega, ma che se ne frega, ragazzi. È una squadra di over. No, non solo di over, ma... Scusa, sì, è tutto. Ha vinto l'anno scorso. Di solito prendono ragazzini, almeno a quello che ho sempre visto, poi invece è andato bene. Ciao, grazie. E tra l'altro non so, perché nella squadra di over spiazzerebbe un'altra. Eh, certo. Sì.